Scrivere, scrivere con una penna, la sua scia delicata passa su un foglio vuoto, scivola man mano e ti fa sentire parte integrante, sottile come un petalo, ma capace di trattenere parole di un vocabolario, parole e poi parole, possono formare tante frasi, su cui pensare, gioire, soffrire, amare, sognare, parole che possono divenire poesia, dolce armonia, parole che possono divenire piccoli sogni, inconsce realtà, parole che possono divenire realtà, veritiere situazioni e come tante parole possono sgretolarsi e farsi trasportare da una penna.